corpo a mano drotta un colpo creato per umiliare l'avversario mincega aici, ma di chi sazi, aspetta che ci si stai butté corpo a furia dura un colpo tremendo che cambia la vita mortasiosi scherzi corpo de sa fracu de sa gadanka conosciuto anche come l'abbraccio della morte me lo dico